Ciao, benvenuta! Sono pronta a portarti all'interno del mio programma completo e mostrarti esattamente come funziona. Ti ricordo che puoi navigare all'interno del mio programma completo da computer, all'interno del sito, all'interno della fitness app o anche con Smart TV. Andiamo a vedere come funziona. Allora, questa è la tua dashboard, il tuo profilo, il tuo punto di riferimento quando sei pronta ad iniziale. Nella sezione in alto trovi la sezione live, allenamenti in diretta. All'interno di queste sezioni trovi riprodotti tutti i replay delle mie vecchie lezioni live. Tutti i replay sono suddivisi in quattro sezioni, la sezione potenziamento in cui troverai tutti i workout relativi al potenziamento muscolare, troverai la sezione cardio in cui troverai tutti i migliori esercizi e routine di allenamento sostitutivi dell'attività aerobica, la sezione stretching e la sezione ginnastica dolce. Quindi tutti i workout senza salti e senza bisogno di attrezzi. Proseguiamo, qui trovi naturalmente il mio video tutorial che ti mostra esattamente come muoverti e andiamo a vedere come fare. Qui trovi le sezioni importanti nel mio programma di fitness solistico, quindi i tuoi punti di riferimento, le tue sezioni per poter conquistare ogni giorno la migliore versione di te. Prima tra queste è la sezione allenamenti e ti mostro esattamente come funziona. Dovrai accedere all'interno di questa sezione tutte le volte in cui ti vuoi allenare. La sezione allenamenti è inizialmente suddivisa all'interno di due ulteriori sezioni. Trovi in primis la sezione postura che ti permette esattamente di comprendere come eseguire ogni singolo esercizio e avere un video tutorial per non avere margine d'errore mentre ti alleni. Quindi sarà come avere Alice sempre al tuo fianco mentre esegui una routine di esercizi. Questo è fondamentale in primis per non farti del male mentre ti alleni e in secondo luogo per poter potenziare al massimo i tuoi risultati. Quindi trarre l'efficacia dell'esercizio. Trovi anche delle lezioni di fitness che sono delle mie masterclass, delle piccole lezioni che ho preparato per te se vuoi approfondire il mondo dell'allenamento da casa e poter ancora di più trarre il massimo beneficio dai nostri workout insieme. Quindi sono delle piccole lezioni che aumenteranno il tuo bagaglio culturale relativo al mondo dell'allenamento da casa. Sotto queste due sezioni trovi vari capitoli che sono singole challenge, singoli protocolli che sono in risposta ad esigenze specifiche. Come puoi notare il mio programma risponde a tutte le tue possibili esigenze relative al mondo dell'estetica, relative al mondo del fitness. Ogni challenge è strutturata intorno ad obiettivi specifici. Innanzitutto trovi il programma completo. Il programma completo è da considerarsi come percorso standard se vuoi dare a tonificare tutto quanto il tuo corpo con esercizi progressivi e graduali. Quindi se non hai obiettivi specifici o semplicemente prima di buttarti in una challenge o vuoi impratichirti un po' col mio programma e col modus operandi del fitness solistico da casa, puoi buttarti nel programma completo che è suddiviso in tre fasi, fase 1, fase 2 e fase 3. Se sei già allenata ti invito comunque a iniziare dalla fase 1, provare il workout e se vedi che sono troppo semplici per il tuo livello di preparazione, puoi andare avanti con le settimane. Altrimenti il mio consiglio è quello di seguire le fasi una per volta perché sono studiate appositamente per essere a cariche crescenti e quindi dare il giusto input ai tuoi muscoli per potersi tonificare al meglio e definire al massimo livello il tuo corpo. Dopodiché trovi challenge specifiche tra cui per esempio la beauty challenge, quindi il percorso intensivo per tonificare i tuoi glutei, snellire le tue gambe in soli 30 giorni, la intensity challenge che è una challenge interamente dedicata a circuiti metabolici per bruciare tantissime kilocalorie, trovi restart che è un percorso di 21 giorni di purificazione ayurvedica. In tutti i casi se non sai da quale challenge partire il mio consiglio è andare ad aprire ogni singola challenge, ti faccio l'esempio con restart, clicchi sulla challenge e trovi sotto la challenge, oltre che il suo video di presentazione, tutti i dettagli. Quindi in questo caso per esempio cos'è restart, qua in basso hai un menu a tendina che ti mostra ogni singolo dettaglio della challenge, quindi i suoi benefici e per chi è più idonea. Quindi hai una vera e propria guida che ti permette di andare a scegliere in questo catalogo di challenge che sono tutte a tua disposizione, qual è la singola challenge che fa di più al caso tuo. Naturalmente per potenziare i risultati il mio consiglio è andare a eseguire magari prima il programma completo, o magari buttarti in una settimana in cui fai solo i miei allenamenti live e poi buttarti in una challenge, è terminata una challenge, provarne subito un'altra. Questo ti permette di avere una varietà di stimolazione che ti porterà ad avere risultati eccellenti su tutto il tuo corpo. Andiamo indietro, andiamo a scoprire le altre sezioni che ho preparato per te e per permetterti di raggiungere ogni risultato. Beh c'è l'area nutrizione. Ecco l'area nutrizione è un altro tassello fondamentale del tuo successo. Anche l'area nutrizione è strutturata con un video tutorial che ti invito comunque a guardare. Il primo step è quando guardi la sezione nutrizione e la sezione nutrizione è fondamentale utilizzarla. Quando inizi una challenge che non ha consigli nutrizionali specifici, noterai che nella sezione allenamenti alcune challenge hanno già di per sé i loro consigli nutrizionali. Ecco, in tutti i casi in cui ti incimenti in una challenge che non ha consigli nutrizionali specifici, oppure per esempio i consigli nutrizionali di quella determinata challenge, non ti piacciono, non riesci a seguirli, questa è la tua area di riferimento. Trovi fin da subito la sezione calcolatori che risulta essere molto importante per iniziare fin da subito a personalizzare questa area. E' suddivisa anche quest'ultima in due calcolatori. C'è il calcolatore del metabolismo basale che ti permette di capire quante calorie esattamente devi assumere per raggiungere i tuoi risultati e un diario alimentare che ti permette di tenere traccia di tutte le calorie che hai assunto durante la giornata. Quindi quante calorie mancano per raggiungere il tuo obiettivo. Qui ti lascio poi al video tutorial di questa sezione che ti mostra nel dettaglio come poter analizzare i dati. Però è semplice, automatico e naturalmente super veloce. Hai la sezione ricette che sono suddivise per chilocalorie, quindi quando ti mancano per esempio 300 chilocalorie per finire la tua giornata, per raggiungere i tuoi chilocalorie obiettivo e non sai che cosa preparare, io ho preparato più di 100 ricette per te, tutte quante fit che ti permettono di avere il massimo senso di sazietà, al massimo nutrimento abbinato naturalmente a un ottimo sapore del piatto. Sono tutti piatti sfiziosi, molte volte sono rivisitazioni delle ricette del junk food, del cibo che di solito viene considerato più alettante, specialmente durante i nostri attacchi di fame. Quindi ti invito comunque a visitare questa sezione. C'è una sezione anche che ti permette di cucinare con me, quindi mi vedrai ai fornelli, guidarti in ricette facili, super veloci da eseguire che ti permetteranno di creare una vera e propria routine soddisfacente dal punto di vista dell'healthy food. Poi c'è il tuo calendario nutrizionale che ti permette appunto di mettere in pratica fin da subito i tuoi consigli nutrizionali determinati col calcolatore. Quindi col calcolatore otterrai un numero e sulla base del numero di calorie che ti vengono consigliate e potrai interfacciarti con una di queste tre opzioni che sono tre diverse sezioni nutrizionali. Ti faccio l'esempio per quanto riguarda il piano alimentare con ricette tra le 1200 e le 1300. Se appunto il tuo risultato fosse in questo range numerico, come puoi vedere potrai scegliere fra tre diverse tipologie di menu. Hai la sezione standard, vegetariana oppure vegana. Ti faccio l'esempio per quanto riguarda la sezione vegana, puoi vedere che ho strutturato un'intera sezione con cinque ricette giornaliere che sono flessibili, interscambiabili, quindi le puoi sostituire tra loro e naturalmente ogni giorno propone ricette sempre diverse. Quindi puoi ogni giorno arricchire la tua tavola con ricette sempre nuove. Perfetto, allora ti mostro ulteriormente quali sono gli altri elementi di questa sezione. C'è la sezione spesa che ti permette non solo di avere la tua lista della spesa per sapere esattamente cosa comprare al supermercato, ma anche dei veri e propri tutorial che ti permetteranno di avere quel know-how, quelle competenze fondamentali per saperti destreggiare tra gli scaffali del supermercato con estrema consapevolezza. C'è una sezione detox che ti permette di depurare il tuo corpo in una o due giornate di depurazione con le migliori combinazioni alimentari, quindi questa sezione sarà un asso nella manica post-sgarro quando vuoi subito sgonfiarti e riequilibrare subito il tuo corpo. Hai anche una sezione relativa alle lezioni di nutrizione se sei interessata ad approfondire questo argomento e avere sempre di più un bagaglio culturale pronto per poterti muovere con sicurezza e certezza all'interno del mondo della nutrizione, quindi sapere immediatamente cosa mangiare e quanto mangiare per ottenere i risultati che più desideri, quindi è uno strumento incredibile di indipendenza. Hai la sezione i tuoi progressi, quindi all'interno di questa sezione potrai tenere traccia dei tuoi progressi, inserire le tue foto, inserire le tue misure. solo io avrò accesso a questa sezione se tu me ne darei il consenso in modo tale che se lo vorrai potremo valutare insieme i risultati che hai ottenuto e saperci muovere al meglio, quindi sarà un vero e proprio diario di bordo. C'è poi la sezione mindset che è una sezione che io reputo essere molto importante e molto interessante che anche quest'ultima include una challenge, che è una challenge mentale chiamata 5 minute challenge, è un percorso di 30 giorni che ti porta a una completa trasformazione del mindset con semplici esercizi di soli 5 minuti, uno al giorno, un must try all'interno di Bright & Fit. Ci sono poi dei seminari in collaborazione con professionisti del settore, questo primo che ti sto mostrando è un seminario in collaborazione con il dottor Gianmario Governato, e autostima per il successo andiamo a trattare gli argomenti di maggiore rilievo per riuscire a conquistare ogni giorno una migliore versione di noi stessi, più carismatica, con più autostima, più predisposta nell'essere costante e pronta a conquistare ogni traguardo. Trovi all'interno di questa sezione anche tantissime masterclass, tantissimi video tutorial in cui ti mostro ogni elemento e ogni singolo esercizio di mindset per poter ottenere sempre di più i risultati che desideri. Giungiamo alla fine di questo video di navigazione con un'altra sezione secondo me molto interessante, ovvero quella legata alla bellezza. Sappiamo benissimo che il fitness olistico e quindi il benessere olistico a 360 gradi non può prescindere neanche da un approccio completo anche alla nostra bellezza. Hai delle video lezioni in collaborazione con professionisti legate appunto alla cura della bellezza, quali sono le piccole tecniche quotidiane per avere una pelle sempre splendente e luminosa. All'interno di questa sezione trovi anche dei pdf di trattamenti viso, dei pdf di trattamenti corpo che ti permetteranno di avere i migliori rimedi home made per avere una pelle sempre super luminosa e sana. Ultima sezione naturalmente legata alla Bright & Fit community quindi sempre un link diretto all'interno di una community costituita da donne con una comunione di intenti pronte a motivarti in ogni momento e guidarti in questo percorso. Questo è il mio programma, spero che tu possa intraprendere un percorso eccezionale alla riscoperta del tuo infinito potenziale. Ti abbraccio e ti auguro un buon inizio!